Il regalo di San Giuseppe che viene messo a disposizione delle piccole imprese artigiane sono i circa 11 miliardi contenuti nel decreto legge sostegni, 11 miliardi che vanno in parte a ricompensare il calo di fatturato che si è registrato nel corso di tutto il 2020 a causa dell'epidemia. È una somma considerevole, certamente se la parametriamo ai circa 3 milioni e mezzo di piccoli imprenditori aventi diritto alla fine porterà a una somma di circa 3 mila euro in media nelle tasche delle piccole imprese, non disprezzabile ma in molti casi al di sotto sicuramente delle perdite effettivamente registrate. È apprezzabile il fatto che vengano finalmente superati i codici a teco come condizione per poter accedere agli aiuti e si guardi invece alle effettive perdite registrate nel corso di tutti i 12 mesi del 2020. Questo è un parziale accoglimento delle proposte che da sempre Confartigianato ha sostenuto nel dare un occhio di riguardo quindi alle filiere produttive e ai cali effettivi di fatturato e non già a dei codici a teco che fotografano delle realtà spesso ormai superate. Sarebbe necessario reperire altre risorse però effettivamente per sostenere le piccole imprese anche perché nel frattempo ci sono le chiusure del 2021 particolarmente pesanti nel nostro campo soprattutto per il settore del benessere. Dove andare a reperire questi soldi? Noi riteniamo ad esempio che una misura come il cashback che possa essere superata e quel miliardi messi a disposizione per questa misura potrebbero essere utilmente reinvestiti così come attenzione poniamo invece alla rottamazione delle cartelle. Credo che sia una misura utile laddove il mancato pagamento dipenda soprattutto da cause di effettiva necessità andrebbe maggiormente monitorata nei casi in cui i pagamenti invece nascono da comportamenti diciamo così un po' furbeschi che alla fine rischiano di danneggiare anche gli imprenditori corretti. Quindi un ritocco ad alcune misure si renderà necessario, sarà possibile in fase emendativa, confartigianato come al solito non farà mancare le proprie proposte.